Intro Benvenuti ragazzi sono venuti con questo nuovo video ragazzi Ehm Oggi siamo su un gioco che ho trovato Online su internet che sarebbe il gioco Di babbo natale E' un gameplay abbastanza natalizio Che praticamente questa Pagina di internet rappresenta Diciamo in poche parole Ehm Il calendario dell'avvento che arriva fino Al 23 che poi vabbè Il 24, torna al 24 Aiuta a seguire babbo natale tutta la notte Vabbè e non so cosa ci sarà Al 24 magari possiamo andarci a vedere La sera del 24 Babbo natale decolla tra 6 giorni, 17 ore, 36 minuti E 46, 45 44, 43 Secondi, ragazzi mi devo soffiare Il naso scusate tantissimo Ma troppo Cioè veramente Mi sono chiuso Ah bisogna colorare Ok signori Questa è la nostra palla di natale Proprio palla Mamma mia signori Guardate che palla di natale E niente Andiamo a fare gli altri Ma che figo sto gioco Bello Mi piace E' bellissimo sto gioco Cosa Vai tutte di qua Tutte di là Piano 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 Ok 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 4 Quattro Cosa la palla Ah me le da un altro Ok 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 No 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 Tutte e due No No Da livello uno No Ok signor Andiamo a fare un altro gioco Andiamo a fare Questo Mi ispira Vai Ah, ok, ok, ok È come prima Oddio santo Prendilo, prendilo Prendi il tempo almeno No No, prendilo, prendilo Ok, così vai su, gira di qua Ok, ok, ok No Dicevo che morivo Oh, ma No, prendilo, prendilo No, no, il tempo No, non l'ho preso No, 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 no No, abbiamo perso No, abbiamo perso No, abbiamo perso Stiamo resistendo Stiamo resistendo 2, 1 No, ero lì Ero lì Ero lì Facciamo il 16 Come funziona questo qua Ok Cosa Che devo fare? Che devo fare? Cosa devo fare? Ah Ok, ok, ok Ah Adesso è tutto più chiaro Ah, ok Ho capito, ho capito, ho capito Vai, vai No No Oh Vai così Allora No Ho sbagliato Vabbè Andiamo a fare il 17 Sette Cosa devo fare? Ah, che figo Allora Questa va qua Questa va qua E questo Oh Ok No, io qua divento scemo Ragazzi No, non ci capisco niente Oh, ma dove va questa? Oh, al confine col mare Perché ha delle isole Oddio ma c'è il tempo Ma non ce la farò mai No, è assurdo Vabbè comunque ragazzi Questo video è finito qua Ditemi se volete Se continuo questi giochi In internet così A me piacciono Comunque per me va bene Continuarli E niente ragazzi Lasciate come al commento Me lo mi piace E iscrivetevi Bella Poi ragazzi Sta musica Ma cos'è sta musica qua Sempre uguale Ma spegni tutto Dai